Quale partita si giocherà per l'aeroporto di Alghero è ancora tutto da vedere, bisogna attendere infatti qualche giorno. Il 28 novembre la scadenza fissata per la gara di privatizzazione del 72% delle quote della società di gestione dello scalo algherese. Pronto il disegno di legge per la ricapitalizzazione pubblica da parte della regione, qualora la gara andasse a vuoto. Quella del pubblico investitore in economia di mercato, dice Mario Bruno in una nota, per la regione la strada giusta era a seguire anche nel caso in cui si dovesse chiudere favorevolmente la procedura di opzione da parte del privato delle quote Sogeal sul mercato. E' quanto chiedevano dal primo momento i sindaci, prosegue il primo cittadino, e la proposta di legge all'attenzione del Consiglio regionale va esattamente in questa direzione. E' stata presentata infatti la proposta di legge sugli incentivi low cost per l'aeroporto di Alghero, un piano di sostegno al traffico che consiste in un finanziamento di 10 milioni all'anno per tre anni. Primi firmatari del testo Pietro Cocco e Salvatore De Montes del Partito Democratico, insieme ad altri 25 consiglieri di maggioranza. Critico il coordinatore provinciale dei riformatori che parla di lungo silenzio da parte della giunta di una legge tardiva. Il risultato di questo atteggiamento di assenza dal problema in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Una stagione già persa e una legge che arriva tardivamente, con la prossima stagione già probabilmente compromessa. I fronti principali dunque sono due. Da un lato l'assessore ai trasporti Massimo Dejana, la cui linea è la vendita di oltre il 70% del pacchetto azionario del Rivela del Corallo e nessun piano di sostegno al low cost. Dall'altra il fronte guidato dall'ex governatore Renato Soru, che non ha mai nascosto di volere prima legge sulla ricapitalizzazione e ora il piano di sostegno al low cost.